Ciao e benvenuti in questo nuovo video tutorial su Clif Funnel. Nello specifico andremo a vedere come caricare un banner pubblicitario all'interno di una pagina del nostro funnel. Io qui come esempio ho preso la Thank You Page. Una volta che il mio contatto ha scaricato la guida, qui sotto voglio inserire anche un banner pubblicitario. Allora quindi non dobbiamo fare altro che aggiungere una riga, clicchiamo quindi Add New Row, facciamo una colonna o due colonne se abbiamo più banner pubblicitari. Poniamo di avere un unico banner pubblicitario, allora facciamo una colonna e inserisce qui dentro, inserisce qui sotto scusate. Facciamo Add New Element e ci apparirà sulla nostra destra il menu degli elementi. Allora dobbiamo scendere e andare a trovare custom, questo qui, HTML. Allora clicchiamo. A questo punto io non ho un prodotto mio ma pubblicizzo per conto di altri, quindi in affilazione, prodotti di altri in affiliazione. Per cui io ho cercato, per farvi l'esempio qui su Clickbank, abbiamo il solito esempio che porto e prendo il sito di Cellulite Mai Più. Entro nella pagina degli affiliati e vado a cercare se ci sono dei banner pubblicitari da inserire sotto alla mia Thank You Page. Allora, vediamo. Dovrebbero esserci, se non ricordo male. Proviamo a scendere un po' sotto. Qui ci sono le immagini, eccoli qua. Qui ci sono i banner delle immagini. Ok, banner. Quindi abbiamo più di uno. Allora, diciamo che mi sta bene questo. A questo punto prendo questo codice che mi indicano, che contiene anche il mio codice affiliato. Allora, CTRL-C. Torno su Click Funnel. Clicco su Custom JavaScript. Open Code Editor. E vado a copiare qui il codice HTML del banner. Faccio invio. Chiudo. Salvo. Ok. Adesso per vedere se è tutto a posto, devo fare in alto a destra Preview. Un attimino solo. Ok. Boom. Eccolo qui. Se poi l'utente, il contatto, va a cliccare qui, mi manderà direttamente con il mio codice affiliato sulla pagina del venditore, sul funnel del venditore. Vedete? Perfetto. Funziona tutto. Come vedete, è una cosa abbastanza veloce e indolore. Vi ricordo che sotto vi lascio sempre, per poter allenarvi con me, il link per la prova gratuita di 14 giorni con Click Funnel. E se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, mettete un mi piace. Grazie, ciao, alla prossima.